ciao a tutti bentornati sono sierra stavolta elaboro la ford gt del 2005 con kit pista allora vediamo cosa posso fare ecco solo cambiare i cerchioni e niente di che perché questa auto è già dotata col kit apposto è appropriato che mi danno loro quindi non posso toccare nulla a parte cerchioni e due cazzo di interni allora cambiamo le gomme i cerchioni gli interni colore e vediamo come potrei farlo questo giallo mi ispira magari con degli adesivi wow cazzo e con delle fiamme oppure che cosa racing che bella poteschi vediamo sono indeciso vediamo tribali quello azzurro mi piace molto quale che era questo ecco aggiudicato dai vediamo adesso l'auto fuori allora ecco la ford gt è una bella bomba vediamo gli interni molto da corsa quello lì è un cambio un microfono non so un vibratore gigante dietro mi sembra di aver visto un motore che vibra si e questa era la ford gt è una bella macchina spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e mettere mi piace e se volete anche vedere i miei video sui social come su facebook vi invito a mettere mi piace mi piace alla mia pagina facebook si era casa che trovate nell'info box di ogni video sotto nella descrizione grazie mille a tutti al prossimo video ciao 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 ciao